Becket quella cos'è? È una felce. Esatto, questa è una felce. E quello? Quello è un cactus. È un cactus, esatto. E qual è il plurale di cactus? Cacti. Bravissimo! E quello che cos'è? Un bambino. Esatto, è un bambino. Questa signora sta per avere un bambino, eh? Questione di giorni. Mi mancano tre mesi, grazie. Becket, senti, dia a questa bella signora che cosa sai riguardo ai bambini. Dai, dillo a queste brave persone. Becket, sei maleducato. I bambini sanno respirare senza farci notare. Ho messo un cuscino sopra una bambina. Pensavo che non respirasse, invece sì. Mi ha fregato, ma ce li proverò. Andiamo.